Farei un nido protettivo per mettere all'interno tutti i giovani che si perdono per strada, li metterei lì e li farei lavorare tutti insieme. Io proteggerei i giovani in quanto semi giovane 38 anni, li metterei in questo nido e li circonderei di mentori, metterei questi ragazzi a proteggersi da se stessi, perché oggigiorno è facile cambiare strada, sbagliare strada, invece quando ci sono certi rischi come il mio, il mio lavoro, che mi prendo tanti rischi di essere sempre calcolato. Prima di fare il pazzo sono molto scrupoloso, controllo se la mattonella si stacca, controllo se non c'è vento, bisogna calcolare e star sempre sul pezzo. Guardando al futuro mi sento di consigliare ai giovani di cercare di porsi davanti più porte, lavorativamente parlando. Il sottoscritto non si è basato solo sulla televisione, sullo sport, ma sono imprenditore a pedali, mi piace creare, mi piace pensare che la mia azienda crescerà sempre di più ed essere Vittorio Brumotto imprenditore.